e se non siete diventati delle steline fatelo subito diventiamo la famiglia più grande del web la famiglia di stelline come si diventa una stellina è semplice iscrivetevi al nostro canale tanto pollice su e la campanellina attivate anche la campanellina così non perdete nessuno delle nostre video divertenti avete visto il film di me contro te il mistero della scuola incantata noi ancora no purtroppo come sapete la cinema a città nostra è chiusa aspettiamo che questo weekend riapre e andiamo al cinema a vedere il film ma abbiamo preso i braccialetti i braccialetti del film il mistero della scuola incantata abbiamo visto la faccia del signore signore s cartone perfidia lui soffì e che la preside che ha perfidato il sito e figlia acqua pongo tira e rei soffì fatta e quello loico si chiama quello lì che c'è le cose scritto del potere pongo soffì c'è glitter brilla al buio grifferata gialla fucsia viola di arancione di tutti i colori noi ryan spera che trova quella mentre ryan vuole trovare quella grifferata stelline la bustina costa due euro e cinquanta lo trovate in edicola noi oggi abbiamo preso soltanto due e andiamo a aprire però non ci fermiamo qua perché andiamo a fare un bel collezione all'interno che cosa ce l'abbiamo c'è continente un braccialetto una bustina di figurine un braccialetto una bustina di figurine se non possiamo aspettare più apriamo chi apre per prima prima apre ryan quale ce l'hai? Rayana ce l'ha Bracciale quella viola con la preside però c'è scritto anche le stelline preside quella viola e c'è una bustina ancora da aprire apri Rayana la bustina ma mamma ci copre anche l'album ok ricordati si no c'è il signore S va bene con la parrucca c'è il signore S fa ridere noi al cinema non l'abbiamo visto ma l'abbiamo visto qua sulle figurine qua c'è la famiglia che ha aiutato a realizzare il film tutto il team del film ecco qui c'è signore S qua c'è una scena signore S sul film del Congo che si è svenuto e di lui che spiega qualcosa con la mano mamma in verità io so qualcosa questo lui ha dovuto commentare con i cavalieri ma sì ecco lui e Sofia ha aiutato lui perché si è soffiffata ogni bustina contiene 5 figurine e separatamente costa 80 centesimi noi l'abbiamo avuta insieme al bracciale io lo voglio provare perfidia c'è perfidia ma dai capitava lui e io soffì ciao sono perfidia e tutti faccio un video ma si mette ma come si mette come si mette Rayana indossa bracciale di me contro tail film con perfidia si gira anche con la parrucchina va bene comunque sia è bella raggiunto il momento dell'apertura della bustina di Rayana 1,2,3 qualcosa di blu ho visto di celeste no? no è la bustina di figurine ah è quella la bustina delle figurine ooooh blu chi è? il vecchio saggio il vecchio saggio e qua anche scrive è la fata è la fata no ecco qua che scrive lo vedete madame 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 sherry madame sherry madame sherry ah Ryan è capitato madame sherry per fortuna no signoressa è quella perchè qua ecco la parrucca ecco signoressa ecco la parrucca piccolissima no 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 Ryan ti puoi su prima adesso apriamo le figurine vai Ryan noi dobbiamo 10 figurine per adesso ho cominciato male ho cominciato male? è già male con la scena tutta viola con la scena tutta viola con la signoressa che vuol dire ah la con la signoressa e Pongo e Pongo Pongo un'altra volta Pongo e i me contro te in discussione con la preside che prefiglia? una speciale? wow ah si quella speciale è Sofì però questa vada Sofì contro signoressa guarda qua quanto è bella amore mio siete rimasti contenti dall'unboxing di queste due bustine? sì anche io mi è piaciuto due a solo due euro e cinquanta dieci figurine insieme due braccialetti due e cinquanta ciascuno però adesso Ryan indossa a Madame Chérie Madame Chérie ecco ti piace? sì il colore proprio adatto a te blu e quello proprio adatto a Ryan perché io sono la preside cattiva Staline non l'avete notato però è pure glitterato è vero ah sì è vero ci sono anche i glitter ecco lo vedete? scrive Madame Chérie ciao Madame Chérie miniatura qua me contro te il film il mistero della scuola incantata è tutta glitter noi questo video lo terminiamo qua ci vediamo sul prossimo video mamma con un unboxing dimmi Ryan ma abbiamo dimenticato a salutare a salutare giusto salutiamo a Alessandro Riccioli ciao Alessandro Alessandro ha chiesto specialmente un saluto a parte di Ryan ciao ti vogliamo un mondo di bene se anche tu vuoi essere salutato in uno delle nostre video lascia tuo nome sotto i nostri commenti e noi ti andiamo a salutare ciao dalle stelline ciao 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 ciao